su questo disegnino dei colli potete vedere il tracciato delle mura serviane e in questa zona vi era lager delle tante porte delle mura serviane ce ne sono aggiunte due questa è la porta squilina originariamente a tre ingressi interamente rifatta da gusto e in seguito dedicata a gallieno imperatore dal 253 al 268 dopo cristo per questo è conosciuta anche come arco di gallieno con questa porta aveva termine lager questa invece è la porta celimontana una porta del celio presso la chiesa di santa maria indomnica giunta fino a noi nel suo restauro augusteo è conosciuta come arco di dolabella e silano perché appunto i consoli pubbio cornelio dolabella e gaio giugno silano in carica nel 10 dopo cristo appaltarono e collaudarono quest'arco sostituendolo alla porta più antica passiamo ora a parlare del campidoglio per prima cosa mostriamo sulla mappa di roma la posizione dell'attuale piazza del campidoglio e poi la posizione dell'antico colle sul disegnino di prima delle mura serviane eccolo qua il campidoglio abbiamo prima accennato che tra il campidoglio e il quirinale anticamente c'era una sella cioè una collinetta quando l'imperatore traiano costruì il proprio il proprio foro di cui parleremo più là sbancò questa sella la cui altezza ricordata proprio da un'iscrizione posta sulla colonna traiana il campidoglio aveva due cime quella meridionale era il capitolium dove sorgeva il tempio di giove capitolino e quella settentrionale era l'arx ovvero l'acropoli la roccaforte della città alcuni archeologi sostengono che il campidoglio era scinto dalle mura serviane anche sul lato interno facendone così insieme all'acropoli quasi una cittadella a sé fortificata e protetta e con il suo tempio rappresentativo in mezzo alle due cime vi era una depressione l'asilum il cui nome evoca l'asilo il rifugio che proprio qui romolo diede secondo la tradizione a quegli elementi negativi che andarono a formare la prima popolazione della città lo scrittore greco plutarco ci tramanda che l'asilum stava inter duos lucos quindi tra due boschi e quindi ci dà una percezione ambientale di un aroma piena di alberi e vegetazione dove tutto era molto selvaggio se andate ai musei capitolini trovate delle belle riproduzioni grafiche del campidoglio così come doveva apparire oggi il capitolium corrisponde al giardino di via del tempio di giove l'arx all'area dove sorge santa maria in araceli raggiungibile entrambe dalle scalinate del vignola e l'asilum corrisponde all'attuale piazza del campidoglio nella zona dove ci sono le scale del vignola che portano all'arx doveva aprirsi una importante porta delle mura serviane la porta fontinalis alla quale si dirigeva il vicus l'autumiarum proveniente dal foro e dalla quale iniziava la via flaminia invece sul lato opposto probabilmente si apriva la porta catularia che dava accesso all'area capitolina porta carmentalis e porta flumentana erano le altre porte del colle il campidoglio divenne una rocca forte anche per conformazione perché aveva le pareti molto ripide ovviamente al giorno d'oggi non è più molto percepibile tutta la parte che dava verso santo mobono è crollata nel corso del tempo tant'è vero che durante gli scavi a santo mobono hanno ritrovato della ceramica appartenente all'area capitolina databile all'età del bronzo quattordicesimo tredicesimo secolo ci fu anche un intervento durante il ventennio fascista cioè l'apertura di via del teatro di marcello che causò un grande sbancamento dal punto di vista geomorfologico le pendici del campidoglio erano estremamente friabili sabbiose e quindi nel tempo sono stati fatti una serie di terrazzamenti che hanno consentito un'estrema antropizzazione della collina altrimenti sarebbe stata abitabile solo la parte superiore livio ci dice che già nel 383 nel campidoglio viene costruito un grande muro di sostruzione significa quindi che già nel quarto secolo esistevano delle opere che terrazzavano il campidoglio per sfruttarne il più possibile la superficie tacito racconta le lotte tra vespasiano e vitelliani nel 69 dopo cristo e dice che al campidoglio i vitelliani attaccavano dai tetti e quindi dobbiamo immaginare una serie di tetti l'uno sull'altro disposti quasi a scalinata sulle varie terrazze l'unica via carrozzabile che saliva sul campidoglio era il clivus capitolinus che era il proseguimento della via sacra del foro e partiva all'altezza dell'arco di settimio severo la tradizione narra che il più antico centro abitato sul campidoglio vi fu fondato da saturno ai piedi del colle sorse così un altare poi in seguito un tempio entrambi dedicati al dio sempre secondo la tradizione anche una porta fu dedicata al dio diverse date sono importanti per quanto riguarda il campidoglio il 390 avanti cristo cioè il sacco dei galli il 133 avanti cristo quando vi fu ucciso nei pressi del tempio di giove capitolino il rivoluzionario tribuno tiberio gracco l'83 avanti cristo quando ci fu un devastante incendio che coinvolse anche il tempio di giove il 69 dopo cristo che è l'anno in cui dopo la morte di nerone si disputarono il posto da imperatore vespasiano e vitellio ci fu una terribile battaglia tra i partigiani dell'uno e dell'altro intorno al colle e ne nacque un altro incendio l'80 dopo cristo quando sotto l'imperatore tito ci fu un altro incendio di grosse dimensioni che colpì il campo marzio e distrusse gli edifici del campidoglio che erano stati da poco ricostruiti da vespasiano dopo il precedente incendio del 69 così la ricostruzione toccò a domiziano imperatore dall 81 al 96 e di questo periodo ci rimangono alcuni monumenti come i templi degli dei consenti e di vespasiano alle pendici del colle verso il foro il campidoglio è un colle polifunzionale elenchiamo adesso le sue diverse funzioni abbiamo già detto che era l'acropoli della città un'altra sicura funzione almeno nelle prime fasi è quella di essere una cava di materiali alcuni muri trovati dall'archeologo carandini nel foro spesso sono di tufo rosso proveniente dal campidoglio e inoltre abbiamo testimonianza del già citato clivus lautumiarum cioè una salita nelle cave queste cave del campidoglio non sono state identificate ancora con certezza ma il tufo venne cavato anche in epoca medievale poi probabilmente vennero spostate sull'esquilino dato che il campidoglio era divenuto il centro della città le cave sono correlate a un'altra funzione che aveva il campidoglio cioè quella di ospitare il carcere alle pendici la situazione si può confrontare con siracusa dove le antiche cave vennero usate come prigioni perché le cave spesso se sono costruite non a cielo aperto ma in galleria sono degli ambienti chiusi e protetti facilmente utilizzabili come prigione il campidoglio oltre ad avere il carcere è il luogo dove si svolgevano le esecuzioni pubbliche qui c'era la rupe tarpea da dove si facevano precipitare i condannati a morte e infatti il nome più antico del campidoglio è mons tarpeius colle tarpeo qui viene identificato uno degli episodi mitici della guerra fra romani e sabini tarpea una fanciulla romana tradì la città aprendo le porte ai sabini che entrarono nel campidoglio ma i nemici appena entrati invece di offrirle il premio promesso la soffocarono sotto i loro scudi di cui l'usanza delle esecuzioni pubbliche sulla rupe la leggenda ci è raccontata ancora una volta da livio ma probabilmente tarpea era la divinità tutelare del colle un culto molto antico e un precipizio della collina fu sempre chiamato saxum tarpeium la leggenda potrebbe essere nata da una statua di questa divinità che che sorgeva da una catasta di armi grazie a tutti